Sono in live! Sono entrato adesso, che è successo? Ragazzi, maremma puttana, che cos'era, che cos'era? Tutte le settimane è lo stesso suono, perché apro Reddit e siccome Reddit va in automatico parte un video in automatico, che cos'era? Oddio, oddio, c'è una novità su Luis e Fedez, me la metto nel culo! Ragazzi, avete rotto i coglioni, madonna santa, madonna incredibile, il ritardo che c'è a giro ultimamente, è una cosa assurda ragazzi, assurda, aspettate, devo cambiare scena, una cosa assurda, no oggi veramente, ieri guarda, ho visto la quantità di ritardo che si tagliava col col coltello, appalate la smistavi, sono veramente il cazzato nero, cos'era, cos'è successo? Oddio, adesso avanza, ha incontrato Spoodle e gli ha dato un bacio nel naso, nooo, non è possibile, ma proprio con Spoodle al suo posto ci potevo essere io! no, Sirius, perché mi piace essere preparato, e quando Switch o deve esserci già a Reddit mi carbano così le cose, e te non sei uno streamer, Sirius, sei uno schiavo qua dentro, non rompere i coglioni, eh? Via, Reddit di merda, i più forti del mondo, questa è, cos'era, mi ricordo, mi sa la monografia di Urasawa, intanto il mio fisico noto che... grazie a tutti perché sono passati tanti anni, allora la gag stava nel aprire il volume, gli esordi di Naoki Urasawa, perché ai tempi era... era molto croccante, non so come spiegare, ma comunque era questa edizione tutta compatta, difficilissima da leggere, difficilissima da aprire, perché era fatta, no, la planet manga tutta bella, con le pagine che si staccavano, incollata male, tutta sfatta, insomma, e allora la gag stava nell'allenarsi per poter pensare di leggere una storia contenuta in questi volumi super duri da aprire. E questo è il tetto di casa mia, sono montato veramente sul tetto per fare questa scena, tra l'altro tutta sbagliatissima, bruciatissima, colliso, sbagliatissima, e questa è la palestra del mio scantinato che adesso non credo ci sia più, l'ha comprata a mio padre per fare allenamento, non l'ha mai usata neanche una volta, almeno è servita per questa gag, e poi c'era anche un'altra... ah sì, io avevo provato a mettere Eye of a Tiger ovviamente, ma mi stracava il video, quindi ho messo la musica che si sentiva in sottofondo durante uno degli allenamenti di una pallottola spuntata forse il terzo, solo che non ho trovato la musica priva di effetti sonori, quindi ho preso direttamente il pezzo del film e quindi dentro ci sono gli effetti sonori del film, perché non sono riuscito a separare le cose cioè non ho trovato il... non ho trovato proprio la musica separata, non ho trovato la traccia originale quindi vabbè, queste sono le curiosità di... ma mi ricorda ancora queste strozzate, è incredibile proprio russi questo video, erano altri tempi svelato una forma regionale siciliana di Tucannoni in Pokémon, per forza logo Pokémon non mio va bene, non so dove l'hai preso, bello anche chi ha fatto il logo per forza, bella questa roba tutto meraviglioso ragazzi, tutto meraviglioso bello, Mario a carbone, ragazzi li potete mettere sul reddit di Mario queste stronzate? Maremma Troia puttana Eva? è bellissimo, ma non c'entra un cazzo! ho chiuso la live così... cos'è? ah bello questo pezzo, qui per ricordare che quell'infausto meme è nato fermare il cosiddetto c'è vado di polino, vediamo ho chiuso la live così... posso cacare nel puzzo volpè, volpè io veramente stai rischiando, il tuo dossier si sta arricchendo, c'è veramente una cosa pazzesca ma in realtà, no, l'aveva presa dalla mia live, credo, cacato nel puzzo cacato nel puzzo, se non erro, ora non sto qui a fare veramente le esegesi, le origini più che altro del meme, però non mi ricordo, c'era una live di, credo, come si chiamava, warzone warzone e io dissi dall'ansia di farmi prendere dai cecchini, cacato nel puzzo, una cosa del genere ma, e poi volpe semplicemente lo ripeteva, ai tempi mi davano ancora fastidio i meme adesso, frega un cazzo app per aver cliccato volpè scu cosa vuol dire app per aver mai cliccato volpè scu cosa vuol dire cocco e perori questa frase vabbè è finito il video, ah finisci il video fatto, era, adesso l'ho finito, è importante Dario che ne pensi di... lui è gigantesco eh comunque bellissimo, ripeto che io faccio questi versi solo quando vi chiedete sempre le stesse cose ecco dove lo avevo già sentito grazie Gembe, grazie Alberto, grazie Nico, Raf, Detto, Quenze, Tano, Sermelini, Dottor Peschino, Aleretro, Arnappo, Lord, Salvo, Lorencuma, Franco e Igor allora c'ho da Gheso, Pasaghella, Parrazzanna, Apino, Gusunilla, Massina, Cassacarragno, Franco sì sì io l'ho letto, quando ho letto Franco ho letto Stinomi a caso mi è venuto in mente Nico e l'ho detto ovviamente così con questo tono ho proprio cercato di prendere il tono preciso io ancora mi stupisco di come becchiate tutte le mie stronzate fa forza oh stupendo, sì ma di che cazzo stai parlando, dai sì ma di che cazzo stai parlando no voglio vederlo, l'unica cosa che voglio vedere, l'unica cosa interessante vabbè, non va più voglio vedere l'Everest, bellissimo comunque sono letteralmente delle rocce sì 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 canta, va bene grazie a Antibrumotti ora anche l'Everest è sopravvalutato chiaramente finalmente, no bimbi è morto Berlusconi e poi non avrebbe accettato una mia intervista sono abbastanza sicura assurdo, anche in poche non ci sono le moce reference d'altronde spinge 500 si va a letto no è tutto finto, secondo me però, c'è anche un sospetto cambio di font però, in quel direggio si va a ballare così io spero che non abbiate trombato nemmeno a spinta piccolo disegno del Daryon sui banchi di scuola questo è già più carino non ho questo cazzo ragazzi smettiamola di di raccontare queste leggende in giro perché le persone ci possono anche credere non è così grosso, va bene? può essere grosso come una gamba no no, è l'alternative art è l'alternative art porca madonna eh porco dio è Mew Mew shiny alternative ragazzi si gode si gode nell'ultrapuzzo di merda mamma mia mi sniffo le palle di Mew tutte sudate mamma mia come cazzo odorano ricordiamo che per trovare queste carte l'Ulesbu sta comprando 20.000 euro di box è invece di andare su ebay o su card market e comprarla a un prezzo accessibile grazie logista però bravamento beh è contento ma sei contento così sono proprio loro i pupazzi di Pinocchio di Guillermo del Toro e ho avuto l'incredibile opportunità di vederli da vicino e di giocarci un po' ciao sono Paolo Caldio regista e animatore stop motion ma è bello di trovarle Pasqui io capirei questa frase con un pull rate normale con il pull rate attuale di Pokémon col cazzo Santino col cazzo la gioia di trovarle una sega la gioia di trovarle una sega perché per trovarle devi strappare 40 miliardi di box perché il pull rate fa cacare apposta per farti spedere un botto di soldi sto cazzo ci vi porto con me nel magnifico studio di McKinnon però se ne trovi ancora più gioia è una cosa mentale tua perché dici cazzo è così rara che se la trovi e sono contento no te lo stanno mettendo in culo meglio è diverso fondati da Ian McKinnon e Peter Saunders oltre a 30 anni fa in Inghilterra gli studios sono un'eccellenza a livello mondiale si occupano sia di produrre film e serie di animazione stop motion che della creazione di puppet anche bellissimo questa cosa Ian e Peter mi hanno accolto a braccia aperte dedicandomi un intero pomeriggio in cui hanno illustrato il loro lavoro siamo partiti da Pinocchio Ian mi ha mostrato la tecnologia incredibile di questi pupazzi che hanno delle differenze sostanziali nella costruzione Pinocchio è un brillante esempio di replacement animation mentre il genocchio nasconde nella testa delle componenti meccaniche questa infatti contiene un meccanismo che permette di modificare le espressioni senza l'ausilio di maschere sostitutive questa tecnologia è stata brevettata proprio da McKinnon & Saunders ormai vent'anni fa per questa meraviglia che non ha bisogno di presentazioni questo meccanismo consente ad ogni animatore anche a chi ha mani più importanti di lavorare sulla microespressività del personaggio poter tenere in mano un pezzo di storia del cinema e dell'animazione stop motion è stato davvero incredibile Ian ha poi proseguito a mostrarvi molto delle loro creazioni meravigliose ma guarda quanti che spettacolo guarda cosa c'è là su in cima ragazzi guarda guarda c'è anche Mr. Fox incredibile madonna che spettacolo ragazzi che spettacolo l'unico tra l'altro nel plexiglass da Johnny Depp mi ha raccontato inoltre di Mars Attacks di come avevano lavorato per animare i marziani in passo 1 tanti altri pupazzi di famosissimi film sono in questi scaffali quanti riuscite a riconoscerne? sono ancora emozionato per questa esperienza incredibile di nuovo grazie a me e a Peter per avermi dato si l'ha doppiato George Clooney per aver visto prima di chiunque altro il mio Dago stupendo 5 dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsifoglia opzione no però bimbi Marco Togni no eh ma è una puttana tanto me ne bastano solo due per divertirmi hai capito perché io vado a non rispondere a una chiamata che non mi interessa ma l'ho inserito altro che all'interno di un indumento atto alla comodità sia nell'allenamento che in casa però questo indumento è assai particolar perché è di un colore assai strambo per i colori che di solito si trovano al decadono o comunque in alto mi piace tantissimo sentire i rumori 5 dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsivoglia opzione altra dimensione con questo strumento che ho comprato ma quanto dura anzi 5 dispositivi primo fanart primo disegno in digitale primo post sul reddiz sto ancora sperimentando non ho per nulla trovato uno stile che possa definirsi mio spero ti piaccia sì sì mi piace ci sta io lavoro ancora su te stesso per trovare il tuo stile una roba si può applicare anche al disegno di prima questo video disegnoz per il Dario ma guarda che per il Darione scusami questa è più incolonnata rispetto alle altre è più no cioè è più non è quello che pensi vedendolo ma è più quello che racconta che riesce a imprimersi no nella mente di tutti noi è una sorta di visione pensaci ragazzi me l'avete postato mille volte anche in anni di nanni queste no madonna santissima il nuovo palinzesto primo poste io penso che quest'opera nasconda ben più di quello che una persona potrebbe desiderare no ma poi ci pensi le cose grazie rate axi per l'aburamento 60 non esce dal settore ma non trova la tripla però siamo in zona check out siamo a 158 in un leg che dobbiamo per forza portare a casa 20 e 20 vabbè vabbè non c'è niente è italiano questo è italiano leo imbuto cosa hai detto hai detto imbuto ti ho sentito hai detto Sandro hai detto Sandro hai detto Sandro ti ho sentito in campana eh ma questa roba sarà arrivata a lui perché chissà se si aspetta che improvvisamente nel 2024 una gag degli anni 90 torni di moda tutto strano con nanni nascosto e poi fibra mister simpatia ha sparato a gogo vabbè ci sta mi sa che era lui non era lui non era lui Dario Mario e Marco intrappolati nel puzzo io sono Mario Sturniolo mancano i baffi però interessante però cos'è Dragon's Dogma fare di sì bella fan art bel disegnino ci hai raffigurato proprio per benino artisti del redditi riunitevi qua nessuno sai vi fermerà bellissimo ah uno su due ce l'ha scritto ok grazie ragazzi avermi lo segnalato grazie di cuore è sempre quando quando voi segnalate uno su due la seconda immagine è sempre bellissima e necessaria soprattutto e vive è come quando scrivete scammato perché non vi viene la notifica degli abbramenti incredibile allora la sed spara un per forza capiamo non penso proprio rock comunque non so cosa volessero scrivere giro provato prince of persia the lost crown ma cos'è questa roba c'è grazie a me per l'appuramento mamma mia terribile terribile dario e mario bella bella la caduta così per aver strizzato la palla questa giappo che è caduta in testa qua ah con lo slime guarda che c'è che c'è che c'è Ah era di Ubisoft Italia Dai raga ma non è possibile Stanno usando la mia immagine per tutto ormai Via Mi devi dare 2 milioni di euro Purtroppo Piccola reliquia Quando imitai Balini nel 2001 L'audio è sbagliatissimo Questa era Ghillipizio Il primo al safari è quello Io non ce la faccio di vedere queste cose Ragazzi scusate non ci provo Sempre vero Eppure no così Il tuffo lo fa No no davvero veramente ragazzi Grazie Sascigno Ciao No 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 Non è il 2001 Non è Ragazzi nel 2001 avevo 11 anni Mi pare un uomo di 11 anni Questo è un ragazzo di 11 anni Era per dire che tanto tempo fa Sarà stato il 2012 2013 Una roba del genere Si Questo è un ragazzo di 11 anni Va bene Dario che cerca il momento perfetto Per sniffare Mario Questa ci sta Per lì Chiedo perdono Momento gaming Porco di inci Ragazzi Veramente Shorts Il messaggio di Dario a Blur Bello in arcidi Che è lui poi? Ah raga ho trovato due nuovi Crypto Guru Guru della finanza Ma meravigliosi eh Domani Ce li spariamo insieme Uno è estremo Talmente estremo Che io credo sia troll Però ce lo guardiamo lo stesso Grazie Noisiero Grazie Mezzasegal Rurone Cannabis Cannabis Lector Scusate Carina questa Col tratto grosso Eh la madonna Guarda ti assicuro di no Flavio Ma grazie mille Per la fanart Carina con i pennarelli Con l'uniposca Dio madonna Bellissimo È uno psicologo Chi è? Ah lui? Narcice Ok No no Ma mi piace eh Mi piace Brunello Grazie Grazie mille Per Per La 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 fanart Attenzione Una tavola a fumetti Dario Cross Ah bello Ti sei ispirato a ping pong Beh lo sai Che come ispirazione Non è male Hai ricalcato Mi sembra Le tavole Però hai fatto un buon lavoro Bellissimo pensiero Grazie di cuore Ora Era un cassa E qui ci sono dei fogli In cui i clienti Posso scrivere Quello che vogliono E praticamente Passano questi ragazzini E iniziano a scrivere E fa E io gli scrivo Spingere una 500 Per Dario Moccia Ma non è mio Spingere 500 È di volpe Per Dario Moccia A un certo punto Sono lì Che stanno Scressando le robe E li faccio Vabbè Comunque D'altronde Tocca Potevi scrivercelo Mi fa No vabbè Mio padre E roba di genere Vabbè Una generazione Di incogniti Paghi in casa E tutto Mi fa Vabbè Ci vediamo alla prossima E li faccio Per forza Giusto così Quindi Dario Se vuoi venire da noi Ma cosa fai Sono in Santa Maria Novella Quindi Per forza Sei in Santa Maria Novella Ma che cosa fai Allora Sei vestito da cuoco Sei asiatico Vedo il logo di un cane E Che cosa fai Da mangiare Non ho capito Potevi scrivercelo No vabbè Ah il Moshi No raga Ma mica per quello Ragazzi Faraglio Dog Dai Cosa fai Cosa Ragazzi Tranquilli Era Ma no 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 racism No No racism Assolutamente Bubble Tifa È La peragnese Ah no c'è scritto Aspetta Forse Moshi Davvero No ma Ma Non lo so Va bene No ragazzi Non mi fraintendete Bubble T sarà Dai Maccia latte Dite Putarsi Amivo Dario Lopoli Terrificante Questo Con Steamboat Twilly Sopra Chi è No 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 racism Grazie Emanuele Poli Cover Bigiotteria Che tra l'altro ha fatto lo spam della bigiotteria Poli Attenzione Un tributo al mio naso preferito Primo posto sul reddit Un abbraccio Dariore Mamma perché mi hai dato un nasone greco Ah uno su tre Subito ragazzi Vedo Ok 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 Grazie mille Dario Scaramoccia Questo è interessante Dai porca Tra queste robe mi danno noissima Mangaka davanti a Mario E Mario dietro Terrificante Che regge tantissimi giochi Quindi Ecco O just chatting LOL L'ha capito Marco Ma E poi E poi Seguido Ma che è sta roba Veramente Terri Atremen Watch a bin Watching a lady Cos'è Cos'è sta roba Un tocco frizzante occidentale Alla scuola del Minnesota Ma non fate queste cose Ragazzi Per piacere A scuola Studiate Lavorate Non mettetemi di mezzo Non voglio problemi Per favore Ma perché Io non voglio essere nel Minnesota Dante richiede Vina con me L'inferno 49 verso 47 Dante un fratello Guarda mi disse Le feroce Quest'è Quest'è megera dal sinistro canto Quella che piange dal destro L'ha letto Ah te si fonde Dice anche Dese Per questa Divina Commedia Dante Ma non c'entra nulla Io non riesco a capirti A letto Ti presentasti Alla mia porta Sostenendo che Non ti interessava Esibirti Però morivi Dalla voglia Di diventare Un fantasista Questa non me l'aspettavo Era una palla curva Non me l'aspettavo proprio Mi è venuto da ridere Anche a me Incredibile No Sì Dai Questo fa schifo Al cazzo Questa è una merda Una merda Mattia Questo è il disegno Del cazzo Fa schifo Fa vomitare Eh no eh Qui non si può evitare Dai Basta Basta Bisogna dire le cose Come stanno Però ha potenziale Zero Una piccola fanart al volo De Peffo Darione ti voglio bene Top 3 passatempi Nelle ore di storia Disegnare franchino Non me fate incazzare Ragazzi È crudo Dai Angela Qual è l'origine Della vita Quanto fa Questo è Marco Re che fa Alberto Angi Che forse non troveranno mai una risposta Ma veramente fa 56 C'è già È tornato Quando ritornano Non ci credo È lui Da sempre L'uomo è impegnato in una continua sfida Per la Ah beh Quello metterò questa roba Però voglio dirvi un aneddoto Che non è mai stato rivelato C'era a un certo punto Io faccio vedere questo Vedi Tanto cuore C'era il Potevi con le lettere Formare delle cose Formare delle parole E ci sono delle foto Che sono state perdute Di altri turisti italiani Di cui io non ho assolutamente Nessuna conoscenza Che avevano fatto la scritta Purtroppo ragazzi Queste cose non si fanno Non si fanno Dux Ma ragazzi Prendo le distanze assolutamente Da questi turisti italiani Che realizzarono questa scritta Ragazzi Ci fate fare delle pessime figure Non si fa così Quindi Ammonimento totale Però era Per raccontarvi questa storia Classico italiano Che mascalzoni Indovina chi Ma questo è fighissimo Sì Questo è veramente bello Secondo me come disegno Ci sta Però è ricercato Sì infatti è criminale Ci sta anche come satira Bellino davvero Complimenti Exotic Assistance Non si Vabbè non c'era bisogno Di aggiungere questo Però L'ho detto che Toriyama Era morto Mario in Cowboy Bebop No è il baffo Che caratterizza Mario Fermo Che fai Quindi no Non c'è Sì forse un po' capelli Vabbè non penso Andiamo avanti Ah c'è una terza slide Scusate ragazzi Ok fondamentale Scusate Grazie a avermi segnalato questo Dada sindaca Va bene Io sì qui a Poli Gli ho fatto un bucio di culo Grosso così Gli ho toccato le palle Gli ho fatto qualsiasi cosa Questo è un pezzettino Show di tutto Diamo la mamma Gli tiravo su le orecchie Lo inculavo Ora manca un pezzo Eccolo Letteralmente L'anima dal corpo Grande canelle Lo rispetto tanto Un bel votif Vi approviamo a aprire dai Cassonetto della monnezza Ah sì E colpisce anche il GOAT Giustamente Il Mobile Satellite Ovviamente Ma mi sembra che è abbastanza scontato Mobile Satellite Dropshot Mi annoiavo in classe Primo post Bello Non disegnate più in classe Ma non perché Ma perché dovete studiare C'è Tra l'altro c'è Mario Online C'è Giuseppe Chirico C'è lo schiavo Dane è ancora una cheerleader At heart Dario vai in live Da Grambod Lì c'è Mari Sicuramente sarà una live Entusiasmante Sono in live Oggi è domenica È il giorno del re 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 Sempre sto cazzo di video di merda parte Managgia la puttana Bastardo Scherzo eh Sempre Di base Senza malizia sotto Sono entrato adesso Che è successo? Allora Bella Bella questa cosa Aspettate un attimo Vai Togli bene Togli Togli bene Ho detto Ok Oh ecco Questa veramente L'ho condivisa anche su Instagram Perché merita Veramente Veramente Tanto Questa ragazza ha fatto Una Una figure Su di me Ed è Secondo me È veramente Veramente Bella Cioè Non Non è una pezzottata È fatta veramente bene Vediamola Questa Questa Mol rim , Dio Grazie a tutti Stupenda davvero, incredibile cazzo, veramente veramente bella, grazie Seb, veramente ti abbraccio, è stato un lavorone perché so quanto costa un lavoro del genere, di fatica intendo, ma anche di materiali perché no, quindi ti ringrazio perché avere una propria figure, poi sentiamoci, ecco mi piacerebbe acquistarla, mi piacerebbe mettermela in studio, quindi se riusciamo a sentirci te l'acquisto molto molto volentieri. No, non è tensing, poi tensing, è il per forza, no caruccio, veramente bello, ma poi bello tutto anche lo stile perché non è solamente una statua su di me, cioè proprio ho trovato anche uno stile fighissimo secondo me. Spendi millino, ma deciderà lui, bastardi! Sì sì, tu hai detto Sandro, ho detto Sandro, ho detto Sandro, ho detto Sandro, caruccio anche questo fatto così tipo a matita, a pellino. Caruccio davvero, bello anche lo stile, tutto lungo, tutto starto, bello. Ma poi, com'è, sembra la, l'investito da marina netto di paperino questo, sembra papà incacchiato, che vuoi dire? Solita indagine, attenzione che questo è difficile, l'ultima volta ho sbagliato, ho sempre fatto giusto, l'ultima volta ero vicino alla soluzione, poi non so perché ho optato per un'altra, vabbè. Chi ha trasformato Stugnolo nella Trinacria? Ah, perché mi hai ridotto così? Allora, vedo già un indizio. L'indizio mi sa che è nell'ombra. Leggiamo bene. Dario, champ, marathon master, gambe estremamente muscolose, campione assoluto dell'atletica leggera, feticista dei polpacci. Dario, crazy mind. Pazzo in culo, esperto di pozioni velenose, soffre del morbo di Parkinson. Dario, ice cream man, persona silenziosa. Vende ghiaccioli dal sapore di merda, emana un cattivo olezzo. A parte i bellissimi tutti. Allora, il trucco è nell'ombra. Allora, sono indeciso. Allora, ragazzi, io tenderei a escludere Dario Ice Cream perché la forma della testa sembra rotonda come Dario Champ Marathon Master. Quindi, o è il cappello, no, ma il cappello no, ragazzi, anche perché c'ha il pallino. Il sangue. Le mosche si fermano sul collo. Però le spallone così sembrano un po' le spalline che si vede in Dario Crazy Mind. Si vedono... Allora, io non riesco a capire, però, se queste macchioline... No, però no. Le macchioline sembrano il sangue di Mario, però si allontanano anche le macchioline che potrebbero essere le pozioni. Allora, direi di andare su Dario Crazy Mind. Perché le macchioline che si allontanano verso l'ombra... Poi, l'ombra, vedi, c'ho le spalline tirate su. Capito? Vai, vediamo, dai. Feticita dei polpacci. No! Maledetto Dario Scream Man, sei un mostro. Mosche, pezzi di corpo nel freezer. Sesso ghiacciolo con osso. L'osso? Ma le mosche che c'entrano? Pezzi di corpo nel freezer. Sì, ok, però... Cioè, persona silenziosa vende ghiacciolo al sapore di merda. E mano un cattivo lezzo. Quindi io pensavo ci fossero le mosche perché c'è dentro gelata la merda. Vabbè, strano. Però, ok. L'osso di Mario, boh, strano. Però ci sta. Ci sta, ci sta. Questo era tosto, eh. E sto un po'... Un po' a trabocchetto. Un po' a trabocchetto. Vabbè, vabbè, ci sta. Ehi, Fituso. Adesso ci pensiamo noi a Tia Bastaddu. Tia Bastaddu, venni da Pim Mario. Boh. Va bene. C'è anche un continuo della storia qui. Fighissimo. Oddio. L'eromocio è il collezionista. Micchia, sembra il trono di Akira questo. Stupendo comunque. Un po' inquietante anche. Però grazie, grazie di cuore. Oddio. Hype Train, Aranza, grazie per i gift. Madonna. La bambina non è... E ho un po' di contesto per chi non mi conosceva. Allora che eravate tanti. Siete tanti e non conoscevi. Questa è una mia parodia della signora in giallo. Va bene, è un mio vecchissimo video. C'era già le cazzate. La signora in giallo con la katana. Cioè, beh. Io non so nemmeno dove li presi quei vestiti. La parrucca me l'ha dette una tizia che aveva il cancro. Dai, no, non è da ride. Però c'era una vecchia in paese che aveva il cancro e mi prestava la sua parrucca. È la verità. È la verità. È la verità. È la verità. Io non vi sto dicendo cazzate. Signora Fletcher. La cittadina di Cabocò è veramente sorridente. Cabocò. Grazie, signor Badozeg. Ho letto tutti i suoi libri, signora Fletcher. Beh, ne sono lieta. Ora sto scrivendo il mio ultimo capolavoro. Ma perché l'avete messo tutto, ragazzi? Perché non fa ridere questa roba? Se muore qualcuno è colpa mia. Ma stia attento per la strada. Potrebbe investire qualcuno. Non si preoccupi, signora Fletcher. Io sono il migliore artista sulla... Oddio! Ha ucciso un povero Pargolo! Signora Fletcher. Questa, tra l'altro, era la musica di Hitman 2. Di Jasper Kidd, mi pare. Fortissimo. Ci sono rovinato! Ho ucciso un piccolo bambino! Chi e cosa è stato? Forse un assassino. No, ma veramente... Un avvelenamento. Signora Fletcher, sono stato io. Un cane con la rabbia l'ha morso. Eh, eh, signora Fletcher, sono stato io! Un camionista è arrabbato, si è fatto i belli e quindi era nervoso perché gli sono tutti incarniti e gli ha iniziato a frizzare la pelle e quindi preso dal nervosismo ha aperto uno sportello e casualmente ha peccato la sua testa e lui è caduto sull'asfalto. Sì, ragazzi, lo so che il passato remoto di Dare è di Eddie, io di Eddie. Però in Toscana si usa molto spesso il dette. Quindi, vai, scusate, toscanismo, non lo... mi pento e mi dolgo. Signora Fletcher, sono stato io, oggi sono bambino, mi metteranno in galera per questo. Ecco, lo sceriffo, chissà chi è lo sceriffo, eh. Successo qui. Signor sceriffo, qui c'è stato un tremendo omicidio e c'è un grosso mistero da risolvere e questo bambino non sappiamo come è stato ucciso. Vedo, vedo. Lei ha una fervida immaginazione, signora Fletcher. Sì, poi, boh, gli spruzzai tutto il ketchup addosso. Questo so io, quello che spruzza il ketchup so io. Che ridevo come un coglione mentre spruzzavo il ketchup al bimbo. Il bimbo è il fratello, che ora c'avrà 47 anni, di una mia carissima amica. Questo bambino non sappiamo come è stato ucciso. Non faccio nomi, non si sa mai. Vedo, vedo. Poi rideva anche lui. Lei ha una fervida immaginazione, signora Fletcher. No, no, lei mi deve dare retta. Che strano, lo sceriffo si è mai spiegabilmente morto. Ma, signora Fletcher, io... Questo era il video. Ma basta, non c'è altro. Non mi ricordo di chi... Che anni erano? 2009, forse. Credo 2009. Avevo 18, 19... Credo 18 anni. È passato un po' di tempo. Basta, ma chi è l'amministratore del Bologna? Della pagina del Bologna? Metti il following! Cioè, probabilmente devi... Lo devi mettere mentre corri, però, mentre insegui. Aspetta, aspetta... Oggettivamente non so che dire. Oddio! Teste antiche ci descrivono come il primo incontro agli alternati due noti streamer. Sfondi gentilmente concessi l'assistente del maestro Inoue. Io e il mio cane avremo bisogno di un posto di riposare. Veniamo da un'isola lontana. Lei è la prima persona che incontreremo da giorni di Andrebbe di aiutarci. Io quel ruzzo la merda non lo puoi entrare in casa mia. Ottima applicazione dei verbi toscani. Già citati in precedenza, però, non è ruzzo la merda. Perché a Livorno il ruzzo la merda è lo sterco orario. Il piazza merda, che non è un toscanismo, ma è una citazione al GOT. Zeb, ovviamente. Zeb, voglio entrare! 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 Questo fa straridesi, soprattutto il rumorone fino a... Oddio Aerolid ha donato cinque mani! Che si infrangono all'interno di una parete borrocciosa! Zeb, voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Chi è? Pronti per il pollice? No, perché? Oddio! Bello invece! Che pollice, zi! Snoop Country! Tra l'altro, su Reddit ha postato un ragazzo, uno che fece una fanart di Lies of P. Ah, questo dicendatore è stato acciucciato! È stato assorbito! È stato scofanato! Sta lavorando il mio nuovo progetto di carte ed è mostruoso! Molto, molto bravo! È stato sequestrato! Brigadiere, l'abbiamo sequestrato! Questa è Bea! Io ero molto contento di salire sul palco, il palco del grande incidente della Vika, che poi ha generato un'imitazione che ha sconvolto la Terra. Voglio dire una cosa, senza fare nomi. La Vika è stata invitata, in un salottino, a testimoniare sull'imitazione di Dario Moccia. Vieni a raccontare che cosa è successo nel dettaglio. Ma andatevene a fanculo! Per cortesia! Per cortesia! No, che cerbero! Ma per cortesia! Niente, ero lì e a un certo punto Dario ha fatto... Mi vergogno! È stato... È stato tremendo! Vada, 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 fanculo! Hai mai fatto uso di droga? Oh, io, ma... Mario, veramente, ormai... È andato, dai! Grazie, ansia! L'auto di Nanni con tarca personalizzato? Bello! Personalizzata? E forza! E forza! Dario fa una magia che gli permette di torcere le proprie palle al comando! E poi le mettete su TikTok fieramente queste robe qua! Ciao ragazzi! È uscita il problema dei tre corpi! Una nuova serie tv davvero appassionante di Benioff, Weiss e Wu! Io me lo sto gustando! Te... Cazzi, io... Stavo... Stavo veramente ridendo! Tanto, troppo! Davvero appassionante di Benioff, Weiss e Wu! Io me lo sto gustando! Te... Quadretto con carta firmata dal Darione, numerata a 100! E la quadretta addirittura! Grazie mille! Ti piace Jack O'Lantern? Sono felice, ti abbraccio forte! Sì, molto farenziano! Ma raga, Farenz vive dentro di noi! Non ci si può fare niente! È indebellabile! Che succede? Oh, per la mia cacciottea! È impressionante! Emana una puzza così fetida che ha superato il puzzometro! Bello il puzzometro! Sì, questo è uno dei disegni che ho fatto l'altro giorno con i ragazzi! Grazie Sandro, grazie signor Nesbit con la Tomodashi! L'ultimo episodio della Tomodashi abbiamo fatto questo giochino! E... insomma... Sì, è il mio capolavoro, assolutamente! Ma perché ora mi siete messi a riprendere queste robe? Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone! Oggi vi parlerò di un manga fantastico! Si chiama... Caverna di Platone era vera... Non sto scherzando, era veramente così nei suoi primi video! Si chiama... Le bizzarre avventure di Giocio! Allora, questo manga... In questo manga... Aspettate che non me lo ricordo... Ah, sì! Si parla di poteri soprannaturali, di persone che combattono, e di eroi che vogliono sconfiggere il cattivo! È uno shonen... Ci sono... Si vide... Si scherza! Ti do un aneddoto, anzi, Eddie, su questi colpi di tosse! Questi colpi di tosse non erano per fare limitazione! Erano colpi di tosse veri! Perché ero ancora dietro a quella tosse maledetta che mi partì quando montai sull'aereo per andare in Giappone per girare Natale a Tokyo e... E mi rimase... Mi rimase per i due mesi successivi! Quindi questa roba qui era... Eriva sugli ancora della tosse di Natale a Tokyo! Infatti, vedi, ho i capelli biondi! Mi è andato avanti per mesi... No, due mesi no, anche di più! Per mesi, mesi, mesi... Chissà perché! Vabbè! Mi feci anche le visite... Ai polmoni... Esami lunghissimi... Non avevo niente! Poi mi dissero che probabilmente era psicosomatica e me la tendi così! Quanti anni avevi? 23... 22 e 23! Dioci anni fa... Insomma, si combattono per la libertà! Io ve lo consiglio, il prezzo è di 6,90€... No, 6€... Star Comics, bella edizione... Con la sera coperta... Grazie a Ninus! Ma che sta succedendo comunque oggi? Assurdo! Libere di leggere! Lo diceva sempre, libere di leggere! Non so se lo dice ancora, non penso! No, ma che denuncia! Si fece la reaction a questa imitazione e si trova ancora su YouTube! No! Questo è un solo io! Ragazzi, dovete capire che l'antico sistema di irrigazione cinese inventato nel 250 a.C. per il controllo delle inondazioni, per quanto sia affascinante, non può essere utilizzato e obsoleto! Ne è evidente l'inefficienza da ogni parte! Ne è evidente l'inefficienza da ogni parte! Ma che cazzo vuol dire? Bellissimo! Bellissimo! Da così, se cannazzi! Content e fatturazione di soldi al mese... No, voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! No, giuro non era una citazione, ne faccio tante, ma non ci ho pensato! Voglio entrare! Voglio entrare! Content e fatturazione! Content e fatturazione! Content e fatturazione! Oddio! Lo stesso video avete usato! Fatemi entrare! Se Alessandro ti chiedesse di fare tipo un episodio sul loro canale, tipo il video che ho fatto io, costruendo a fare prank. No, ecco, perché purtroppo io ormai non sto più in Italia. Non è vero, è una puttana di dimensioni dati, che è assolutamente in Italia, sta in Toscana. Sto a Dubai io! Sì, a Dubai. A Dubai! Lo studio l'hai staccato dal terreno e l'hai messo a fare. No, questo è un green screen. Un green screen. Allora. Ragazzi, io capisco che questa gag della testa quadratica, però non è vera questa foto. Cioè, l'avete modificata, capite? Grazie, Lollop, per l'abbonamento. Però è bellissimo. È stupendo. È stupendo. Stupendo. Pumulo che cerca... Che cerca... Far cambiare opinione a dare su One Piece. L'italiano, ragazzi. Si vede che è il primo meme, eh? Comunque, grazie. Ancora! Dai, voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Voglio entrare! Content, fatturazione! Vabbè, mi ha colpito questa cosa. Movie Leaks... Ah, this character dies. No. Vabbè, questa cosa scema. Che vuol dire questa roba? Ciao, Dario Boccia. Sono costretto a raccontare quello che hai fatto. Scilati, come sapete, io sono stato a Luca Comics quest'anno. L'ho beccato Dario Boccia. Era dietro il privé. C'erano tutti i fan che volevano la foto. Non esiste il privé, Luke. Ha mandato il suo amico a cacciare tutti e dire niente foto con Boccia. Niente foto con Boccia. Ma cosa ti credi una star? Poi offendi Manuto. Tanto Manuto al Games Week è stato otto ore a fare la foto con il fan. Otto ore! Invece lievitavi. E si è seguito su... Lievitavi? Ok, come la pizza. Solo da Kikomori. Gente che sta male. Non leccare il bunda se nella realtà fai altre cose. Boccia. Comunque non ho mai conosciuto questa persona. Ripeto, ho fatto le foto con tutti a Luca. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque arrivo subito. Questo è carino. Carino questo. Non male. Comunque ho notato che questa storia, ragazzi, mi è piaciuta di brutto. Dei livelli improbabili. Dario Sturriolone Supremo che tiene sott'occo Mario Sturriolone. Sembra un mostro di... Sembra uno dei mostri di Dragon Quest questo. Orribile Mario. Cioè, uno dei mostri più grossi. Ancora ridi? No, non è che rido. Ragazzi, è uscito. Ghezzi, cioè, raga, non mettete queste robe in bocca a Ghezzi. È un sacrilegio. È come sporcare veramente un'opera d'arte. Il problema dei tre corpi. Una nuova serie tv davvero appassionante. Di Benioff, Weiss e Wu. Io me lo sto gustando. Te? Che poi ci sta anche bene perché Ghezzi era sempre in 4Sync. Quindi ci sta strabene. Però, povero Ghezzi. Grazie. Vabbè. Ma non era un verso compilation. Cioè, avete fatto poi il montaggio. Così non so di niente. Ah, grazie. La sigla in reaction. Vediamola. Beh, bellissima. La userò sicuramente. No, non ha fatto questo Danny Lazzarini, ragazzi. Lo sniff forco. Mario, merda. Non un altro sniff, ti prego. Perché sono orribile, zio. Ora va bene tutto. Ora sono orrendo. Grazie Garco. Benvenuto. Sono senza parole. Però bella la vignetta. Che lui che si è un po' spaventato dietro le fronde. Ah, Poli. Perché è quadrato la pina. È stato bellissimo, Sergio. Già, ma è interessante. Ancora. Il primo incontro. Tra chi? Aspetta. Tra me e Mario? È stato questo il primo incontro? Lo sai che non me lo ricordavo? Minchia, assurdo. Doppiaggio di niente ufficiale. Ma parole. Storniolata scolastica. Non fate i disegni. Non vi fate riprendere dai professori per le mie cazzate, eh. Marion. Non ho capito perché queste robe le postate sul mio Reddit. Non lo capirò mai. Mai. Dario Mochia, Zone of Words. Tocca ritornare su Fortnite. Interessante. Poi lo facciamo. Lo facciamo. Perché no? Grazie a Xeo. Grazie a Sbrichi. Questo è bellissimo, però. Questo è stupendo. Quando non la fai... Dario Boccia. Basta. Basta, basta. Basta, basta. Hai rotto il pene, Dario Boccia. Hai rotto il pene. Poi nel video risposta da squattrocchiato. Cosa hai detto? Io lo so che a Manuto gli dà fastidio. Allora perché l'hai fatto? Allora perché continui? Se lo sapevi, perché continui? Ma non l'ho mai detto questo. Com'è Manuto, non mollare. Ho seguito il discorso che dici che stai pensando di chiudere. Non farlo. L'hai vinta Boccia. Non farlo mai. Non mollare mai. Tanto alla fine Boccia è seguito solo da Kiko Mori. Non mollare mai. Quanti ce ne hai in Italia? Parecchi. Grazie a Rear Sirio. C'è un problema grave. Grazie a Snoopy, Kriv, Andrea. Comunque questa è la persona che dà ragione a Manuto. So, eh, ci tengo a dirlo sempre. Lo ho detto anche a lui. Canterò per voi una canzone d'amore. Povero Nuti, veramente. Distrutto così. Alta. Bella. Pionda. Però era uguale la voce. Alta, bella, pionda. Che tra l'altro da qualche parte, secondo me, c'è. Ma no, tira una bomba a lui nella canzone. Puppa appena. Tu ore, pumpa appena. No, ragazzi, scusate. No, ti muore una seconda volta così, eh. Cioè, veramente, terrificante. Dato, credo, ave l'ha cantata una volta in live. Quindi non c'è bisogno... Che c'è bisogno di un sito web a chi parla? Senti, so, il mio bimbo mi ha detto che qualcuno ordina la carne anche su questi market flash e Facebook. Ma no, ma te mi ha detto il mio nipote che fa i siti, no? Te mi puoi vendere la carne nel computer? Un sito web a voglio. Ma quanti soldi vuoi? Perché io ti posso dare un tre bracciale, eh? Tre bracciali. Ci posso dare un po' di questi tra piccoli? Io me lo intendo. Mi sembra soddisfatti o rimborsati. Non si preoccupi, signora. No, ecco, perché io di questi garbugli non ne voglio, eh. Stia tranquilla, la richiameremo al più presto. A rivedere. Grazie, ragazza, è rovinoso. Grazie, Luca. Grazie, Carlo. Grazie al futuro. Ma poi... Ma quando l'ho fatta, sta cosa di siti web? Oh, io proprio... Mai, no. Devo andarci piano, eh. Secondo me... Mario. Ma cosa c'entra? Questa sabbia è orribile, tra l'altro. Bicchiaremo mozza perché è la terza importante. Ah, oh! Raga, mi portate a firmare un sacco di quei santini di merda. Ora scopro chi lo ha inventati, vi denuncio e mi riempite di soldi. Perché mi avete rotto il cazzo, eh? Come sarebbe dovuto essere l'avattore Massimo Cecchini per essere compresa come tale dai moralisti in chat? Il fine di Garrone non vincerà l'Oscar perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre, si sghessano, si scavati per forza, attorno ai dati di Mario. Poi, merda, si va a letto polizia. Così l'avrebbero capita, secondo me. Come vedo i gossipari su Twitch. È una bella interpretazione, secondo me. Anch'io li vedo così. No, più così. Più così. Ma dov'è la mia tazza di caffè mattina con la briocia? Carina questa. Molto, molto carina. Questo è Pierzimio Berlusconi a Drive-In. Che fa la partecipazione. Io so tutto. Ciao papà, ti va tutto bene. Non mi hanno riconosciuto. E con la scusa degli autografi sto facendo... Recitazione incredibile. ...un sacco di riduzioni di stipendio per il Bravino l'anno prossimo. Ah, scusa, sta arrivando Tini. Ti saluto. Ciao. Ciao Tini, scusa, mi firmeresti un autografo? Certo, ma io non sono mica ingenua. Leggo sempre prima di firmare qualcosa. Ma qui c'è scritto che rinuncio a metà del mio cachet. Io non ho mica mal di testa. Rinuncio a tutto il mio cachet. Bene, brava Tini. E adesso ti posso invitare a cena per questa sera? Eh beh, sai... Adesso non mi puoi mica dire che hai il mal di testa. Grazie Sherry, grazie Love, grazie Christianotti, grazie Alcolino. Ho già fermato. Terrificante, Drive-In. Terrificante. Terrificante. L'unica gag che funzionava era cosa? Sera greggio col cane. Basta, per il resto la merda. Un piccolo treno per arrivare in una zona, secondo me, di comfort per molti di noi. Oddio, fa un po' troppo freddo in Toscana, ragazzi. È meglio spostarsi. Andiamo a Milano. Oh là. Fa così un po' più caldo a Milano. Per via delle polveri sottili, del fatto che muoiono 40.000 persone l'anno. Per via di tumori ai polmoni, ma questo è un altro discorso. Oh, ma che fai? Lascia il posto assai dove deve fare Bloodborne. Lo chiamo allora. Un attimo, ragazzi. È un po' troppo freddo lo studio di Francesco. Non notate bisogna spostarsi al trovo. Grandi gag di poli. Merda, mi ha scrinnato malissimo, però, Willy. C'è molta pazienza. Ah, è di culo, Lily. Siamo a casa, siamo in una casa. Un'idea. Signori, anche voi pensate che faccia un pochettino freddo in questo studio? Secondo me è il caso di tornare dove si è stati bene, ma con qualche piccola modifica. Se lo vede Dario, io sia veramente out of Tomodachi, però... Ma che cazzo dici? Bellissimo. Vabbè, ma poi... Bellissimo. Bellissimo. Grazie, Cine91. Non so se li mandano più, tra l'altro, in Euno, ma boh. Dario Gommoso, bellino. Bello, Kpped, anche sotto. Abbozza, abbozza, disegno, disegno. Sandro, Sandro. Vabbè? Vabbè, sì, ma è ovvio che fosse quella la citazione. Grazie a te, Pumarola Ragù, se è vero. Gli amiibo sono rovino il collezionista. Beh, di vari tanti, vi prego, aiutatemi. Otto anni e mezzo dopo la profezia, se è vero. Eh, sì. Ma già li collezionavo, mi sa che ho iniziato qua a collezionarli. O forse eravano annunciati. Vabbè, comunque li ho tutti adesso. Beh, andiamo avanti. Sì, ve l'avete già postato. L'Homunculus, beh, è vecchia questa roba. Sì, mi assomiglia, effettivamente. Era un po' troppino, però mi assomiglia. Manca poco, eh, ragazzi. Ma non è power? Poi io non faccio mai queste storie, vabbè. Prenderò il tè con i miei frags. Manca poco. Ah, sì, questo è stato un errore della pagina del Garda. Quando mi hanno annunciato con il sottonome di Cristina D'Avena. Mi sta simpaticissima a me, eh, Cristina D'Avena. Ci mancherebbe altro. Però mi hanno annunciato così male. No, è vero, mi sta simpatica. Allo, cioè sarà il pavimento appiccicoso. Horus Point, più il pavimento è appiccicoso, più è buono quel ristorante lì. Sarà sicuramente questo. Tor Forza, il figlio del proprietario in questa pagina. Vabbè, può darsi, da vista l'età, però non è vera questa cosa che dice, eh. Cioè, arriva l'usle e ti fa chiudere tutto. Verificante, veramente. Grazie Zarche, grazie mille. Dario di scienziato fan art. Racconta, eh, 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 eh. Sì, lo vedo, no? Un talento da elevare. Mi ha rappresentato proprio per me. Questo è Carucci, doveva essere più su. Saluti da Nara. Caruccio, vabbè, farà l'inchino, come al solito. No, dai! Se invece fai bene, mi stanno sul cazzo con i cervi maledetti. Moccia slime e altri slime. Eh, ma questo però ha un suo perché, secondo me, eh. Bisogna approfondirlo, ma effettivamente... Sì, 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 assolutamente. Approfondiamo, approfondiamo. Che hit è questa, ragazzi, eh? Guarda, ma che mi leggerai sui giornali? Sarò un martire! Ma non va molto a tempo, pochissimo. Parente lontano? Non penso. Prevedo una giornata dura per dare al Garnacom. Per forza, per forza, per forza... Sì, vabbè, ovviamente. È successo. Ehi, baby! Che fai? La doccia senza di me? Perfetto. Benissimo. Abbiamo finito. Prego. Grazie, grazie a tutti, comunque. Grazie ancora a palo. Bellissimo Reddit, comunque, ragazzi. Avete postato veramente un sacco di cose fighissime. Se non vi ho letto e reputate che il vostro post sia stato incredibile... No, vedo che c'è veramente robaccia. Ripostatele e provate a... Insomma, farvela votare un po' di più. Pizza morte, pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.